salve e benvenuti in questo nuovo video di monster hunter sunbreak allora ci eravamo lasciati che ero aveva battuto il ludot reale e nel frattempo ho fatto un po di missioncine così chiave e urgent quest e in questo momento mi sto per preparare per affrontare la missione furia rocciosa che si tratta di il garan golem cioè uno dei tre signori della storia accettiamo allora ho ancora l'equipaggiamento più quindi ci sarà un po da soffrire allora ma chissà che debolezza che avrà allora magari faccio una piccola ricerca ok da una piccola ricerca sembrerebbe anche lui debole a tuono come l'ultima missione che ho fatto ho già anche le doppie lame pronte allora mi preparo spero di non aver cannato allora set a posto oggetti a posto mangiato mangiato si parte sono proprio curioso di provarlo una location nuova carangolm prendiamo di tutto pompaggi a manetta ah c'è anche vabbè dai vediamo un attimo se sarà un po più fattibile resi in stagno prova ad attirare un mostro lì sembra che abbia azzeccato l'elemento debole la parte anteriore è quella che subisce più danni meglio usare un succo sprint sembra che questo stagno non causi dov'è l'insetto filo l'avevo visto inox vieni qua ok sembra in rage ragazzo non mi piace dai dai imbecille allora questo mi fa secco no no cattivo è una battaglia molto stimolante non eccessivamente bastarda come difficoltà c'era perché verrà ok sta cambiando al no vicino al campo base avrei bisogno di un insetto filo però vediamo se ne vedo ne vedo no fammi gli alimenti il salto del brachidio se anche se è una cosa inarrivabile quel salto è cascato nella trappola wow ho spaccato qualcosa più o meno no pensavo di avere l'insetto filo mi sta prendendo di mira a santa pace no no inox vieni qua tutto un momento di defiance rimedio subito è che non ho il terzo insetto filo accidenti è un po limitante per me inox vieni qua dai gli accidenti e stanco ecco ti questa urlo no cambiare allora vado un attimo a riprendere altre due bombe che possono essere utili c'è il bariott anche in quest'area non farò aspo vediamo se esco a farlo addormentare nooo accidenti si ce l'ho fatto ho di fortuna non svegliatelo non svegliatelo non svegliatelo si hanno aumentato ma se riuscissi a cavalcarlo sarebbe perfetto c'è anche l'insetto filo rubino però dovrebbe venire qualcuno dov'è un insetto filo qua questa roba esploso un braccio non me lo faccio ripetere due volte sì se venisse anche uno degli altri due mostri wow gli ho sfrotto il muso grandissimo bariott dai 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 no dove vai dove vai benissimo si si attacco attacco stai tranquillo bene molto bene faccio un po di danni finché sono quasi alla fine della barra dai 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 un altro ok punitore devo fargli esplodere anche l'altro braccio inox dove sei un po di drop preziosi meglio curarsi va si sono uno scemo accidenti dai 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 ah grande ecco voglio fargli esplodere il braccio vecchio incazzato e fatti sotto vedo che una volta esploso il braccio non cura cioè non si rigenera lo scoppio forca vacca è la madonna sicurami dopo che sono morto è il copper grazie una volta partito proprio adesso non mi freghi più cristo so che ho anche il terzo insetto filo non c'è sono sono contento è che voglio fargli esplodere il braccio cavoli potevo fare anche il pieno di pronti soccorsi più no 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 porca puttana cura cura adesso cambia no mi pareva strano allora si è la sua mossa con cui si scarica praticamente ma devo ancora capire se è un drago anziano e fa parte dei tre signori ma l'unico drago anziano è il malzeno in teoria insetto filo dove sei allora succo sprint un'altra trapola gliela piazzo ho visto insetto che pompa l'attacco agiamo no che fail si perché c'è l'altra che cavalca il volvidro ma perché queste iniziative devo cavalcare io no il computer accidenti non gli manca tanto è che voglio fargli esplodere ma andato forte ma non stronzo mi piace stata impegnativa la battaglia ma frustrante va bene ci vediamo in un altro video statemi bene arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti